Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Come sappiamo, Marco Liorni ha preso il timone de l'eredità, novità che ha suscitato un'onda di reazioni tra gli spettatori. Nonostante le battute leggere, come il suo scherzo su un'ipotetica carriera politica, Liorni ha mostrato una certa nostalgia per il suo precedente incarico a, reazione a catena, ricordando emozionato il suo percorso. Ho pianto come una fontana, è stato liberatorio. Intanto, i fan sembrano non gradire molto la sua presenza, vogliamo l'altro conduttore, l'opinione dei fan. Il debutto di Liorni ha certamente fatto rumore. La serata inaugurale ha registrato un record di ascolti con oltre 4 milioni di spettatori, segnando un successo che non si vedeva da tempo. Tuttavia, non tutti i commenti sono stati lusinghieri. Mentre alcuni esprimono nostalgia per il precedente conduttore, Flavio Insinna, altri mettono in dubbio la capacità di Liorni di eguagliare il carisma e il talento del suo predecessore. Con osservazioni pungenti come Spiace per Liorni, che è bravo, ma con Insinna proprio non c'è paragone. La Rai ha accolto con entusiasmo gli esiti positivi. Evidenziando come i cambiamenti apportati al format e la scelta di Liorni come frontman abbiano rinfrescato la trasmissione. Nonostante questo, si percepisce un certo divario tra l'accoglienza calorosa della rete e le reazioni miste del pubblico. Dimostrando che la strada per conquistare i cuori degli affezionati potrebbe essere ancora in salita per Marco Liorni. Grazie a tutti!